Ciao a tutti ragazzi, sono Karma. In questo video vi parlo di un argomento che ho visto comparire spesso nei commenti, ossia l'ammissione alle lauree magistrali di due università private a Milano, ossia la Cattolica, che è la mia università, e la Bocconi. Io farò riferimento ai corsi nel dominio di Economia, quindi Economia, Marketing e Management. Poi ovviamente non posso conoscere i criteri specifici di tutti i corsi offerti da queste università, quindi mi focalizzerò su quest'area che è anche la mia area. Allora cominciamo dalla Cattolica. Il regime di ammissione in Cattolica alle lauree magistrali si basa su un sistema ad ordine cronologico, quindi ci sono tre ordini di tempo che vengono considerati per consentire ai candidati di mandare la propria candidatura. Il primo ordine cronologico è destinato a coloro che hanno una media ponderata di tutti gli esami che hanno svolto fino a quel momento uguale o superiore a 26. Se avete una media ponderata uguale o superiore a 26, sarete i primi a fare ammissione e ovviamente avrete la priorità rispetto agli altri. Il secondo ordine cronologico è per quelli che hanno una media ponderata compresa fra 23 incluso e 26, mentre il terzo per tutti gli altri. Quindi ci sono dei diversi periodi di tempo in cui voi potete inviare la candidatura in base alla vostra media. Ora non è detto che i posti verranno esauriti subito con la prima ondata di coloro che hanno la media 26 o superiore, però costoro saranno quelli che prenderanno il posto prima. Ora i posti del mio corso erano 100 credo, però qua non si è mai troppo rigido ovviamente. Considerate che le università sono comunque dei business, quindi anche per loro ovviamente è meglio avere più studenti rispetto che meno studenti, però ovviamente il numero di candidati viene limitato prima di tutto per una questione di spazio e di capienza nelle aule. Solitamente quelle per la magistrale sono più piccole e poi per consentire magari una qualità dell'insegnamento migliore e per consentire poi i professori di stringere rapporti migliori fra studenti e professori, perché se fosse in 500 sarebbe sicuramente più difficile. E poi c'è anche la questione di mantenere comunque una certa immagine di università comunque selettiva che non fa entrare tutti, ma che ha comunque dei requisiti. Ok, poi per quanto riguarda i corsi tenuti in lingua inglese come il mio, dovete avere una certificazione o sostenere un test di ammissione interno dell'università cattolica. Ci sono quindi queste due possibilità. Io vi consiglio la certificazione perché è più spendibile nel mondo del lavoro. Certificazione livello minimo B2, quindi se avete B1 non va bene, minimo B2 e attenzione la certificazione deve essere valida. Cosa significa per valida? Significa che non deve essere scaduta. E qual è la data di scadenza? Beh, l'esame deve essere fatto non meno di due anni prima. Quindi se mandate la candidatura per quest'anno, che è il 2021, allora la certificazione dovrà essere stata acquisita a partire dal primo gennaio del 2019. E attenzione, cosa significa acquisita? Significa non che il foglio della certificazione è stato rilasciato a partire dal primo gennaio, no, significa che dovete aver svolto l'esame a partire dal primo gennaio del 2019. Quindi se voi fate l'esame a dicembre del 2018 e la certificazione viene emessa a gennaio del 2019, siete purtroppo fuori. Dovete fare l'esame a partire da gennaio del 2019. Io infatti qua sono rimasto fregato perché ho dovuto rifare la certificazione due volte perché la mia si riferiva ad un esame svolto a dicembre del 2014, mentre era necessario svolgerlo da gennaio del 2015. Ok, questo per quanto riguarda la cattolica. Non sono necessari test d'ingresso di alcun tipo, se non quelli per la conoscenza della lingua inglese se scegliete di fare un corso in inglese e se non avete già fatto la certificazione. Questo per quanto riguarda, vi ripeto, lauree del dominio di economia. Passiamo ora alla Bocconi. Per la Bocconi il discorso cambia radicalmente. Questo perché in Bocconi non esistono tre ordini cronologici, ma ce n'è soltanto uno. Quindi tutti mandano la candidatura entro un certo periodo di tempo, che non dipende dalla media, però in ogni caso la media ponderata è molto importante. Tant'è che per i corsi di laurea magistrale in inglese in Bocconi è necessario avere una media che sia almeno di 28 su 30. Almeno di 28. Infatti i corsi in inglese in Bocconi sono considerati un po' i corsi d'élite. Pensate ad esempio che al Politecnico i corsi di laurea magistrale sono solo in inglese, quindi sta un po' prendendo piedi l'idea che i corsi di laurea magistrale fatti in inglese siano quelli più diciamo di alto rango. Ed è per questo che la selezione per questi corsi è più dura, è più esigente. Mentre per i corsi di laurea magistrale in italiano non c'è questa limitazione. Cambia che dovete anche inviare il vostro curriculum e una lettera di motivazione. Avete capito bene, anche il curriculum, nonostante sia difficile per voi aver svolto già esperienze lavorative diciamo significative entro la triennale, dovete comunque redigere un curriculum e una lettera di motivazione. E anche queste verranno considerate. Altra esperienza che sarà tenuta fortemente in considerazione è quella dell'esperienza all'estero, soprattutto per il corso di lingua inglese. Sarà, non dico necessario, ma fortemente consigliato aver svolto un'esperienza all'estero come l'Erasmus, così come tutte le altre esperienze extracurricolari. Diciamo che la Bocconi si sta un po' posizionando a questo riguardo, cioè delle ammissioni, un po' come le Ivy League americane, dove aver svolto diversi tipi di esperienze extracurricolari come suonare in una band, il classico proprio quello del jazz, no? Il businessman che suona la tromba, quel che l'è, è proprio quasi un cliché. Oppure attività sportive meglio se agonistiche, tipo canottaggio, altro cliché, atletica e robe così. Sì, quindi la Bocconi sta un po' prendendo a modello appunto le università top elite americane tipo Stanford, Harvard, Yale e ha plasmato un modello di ammissione sulla falsa riga di quello delle Ivy League. Sicuramente sono più difficili le ammissioni per i corsi in inglese e, altra cosa, se non siete bocconiani, già antirennale, dovete svolgere un test di ammissione. E non è un test di lingua, è proprio un test di ammissione volto a valutare un po' le vostre capacità. Ci sono due possibilità in questo caso. O fate un test di ammissione interno somministrato dalla Bocconi, che è un test di, sì, di cultura generale, ma che ha a che fare con materie economiche. Non è che vi chiedono quale anno c'è stata la crisi missilistica a Cuba. Sono test di cultura economica, quindi che hanno a che fare con le materie che di solito si studiano in triennale. Quindi macroeconomia, microeconomia, marketing, economia aziendale, economia delle aziende di credito, finanza e così via. Oppure l'altra opzione è quella di fare il GMAT, che è questo monumentale, colossale, imponente, e minaccioso test, che è un test molto sofisticato, molto, sì, molto difficile, per cui è necessario prepararsi mesi, mesi prima. Incorpora diversi tipi di test, appunto test grammaticali, di comprensione del testo, di abilità coi numeri, di logica. È un test veramente, veramente tosto. E se sceglierete questa opzione dovete mettere in conto davvero di studiare tanti mesi prima di fare questo test. Quindi questo è tutto per quanto riguarda le ammissioni alle lauree magistrali in Cattolica e in Bocconi. Aggiungo che in descrizione potete trovare il link alle pagine di riferimento, sia per la Cattolica che per la Bocconi. Ovviamente avrete già capito che l'ammissione in Bocconi è molto più difficile ed esigente rispetto a quella in Cattolica, soprattutto per i corsi erogati in inglese. Poi ho fatto anche dei video in cui faccio un paragone fra Cattolica e Bocconi, quindi se volete sentire la mia opinione a riguardo potete guardare quei video. In generale vi posso dire il brand e il prestigio della Bocconi contano, sì contano, specialmente però in alcuni ambiti, quindi in particolare la finanza, l'ambito della finanza e magari all'estero. E poi l'altro aspetto che magari dà un po' di vantaggio della Bocconi è il fatto che ci sono spesso dei workshop, degli incontri con delle aziende che fungono un po' da, come dire, occasioni per inviare curriculum a queste aziende ed avere la certezza che si verrà considerati per primi rispetto agli altri candidati. Quindi una sorta di corsia preferenziale che viene in alcuni casi data agli studenti della Bocconi, proprio per l'esistenza di questi eventi di incontro fra studenti e aziende. Per il resto anche la Cattolica è in grado di darvi un grande ventaglio di opportunità, ma di questo poi ne ho parlato in altri video. Ok, per questo video è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Karma!